Cioè ormai è una formula matematica, prima della partita della Champions il Milano deve pareggiare o perdere quest'anno, non lo so, cioè ogni partita che facciamo prima della Champions League puntualmente perdiamo punti, è incredibile, è una cosa incredibile, ma è possibile che non riusciamo a fare un gol contro l'Empoli a San Siro? Un gol, un gol, poi io questa volta posso dire una cosa, non posso dare la colpa a Pioli, lo sapete perché? Lo sapete perché? Per il semplice fatto che non è possibile che possano giocare sempre gli stessi undici tutto l'anno, anche gli altri si devono far trovare pronti, cioè Rebic oggi ancora una prova indecente, Cioè davanti al portiere si mangia un gol clamoroso, Orighi un'altra partita indecente anche lui, cioè 70 minuti di nulla, di assolutamente nulla, cioè ragazzi io veramente non possiamo, non possiamo veramente fare un attimo di turnover per far respirare un attimo i titolari Che subito, subito quegli altri fanno male, e che palle, cioè sinceramente Pioli non è che può far giocare sempre gli stessi, se le ha o non è al 100%, non può far giocare la partita contro l'Empoli, preferisce risparmiarlo giustamente per la Champions, però cazzo ragazzi ma fatevi trovare pronti, ma venite pagati milioni l'anno, Ma com'è possibile che non riuscite a fare una partita contro l'Empoli, che è venuto a San Siro, di solito l'Empoli è una squadra che gioca a calcio, l'abbiamo visto anche all'andata, è venuto a San Siro a fare il pullman, ma state bene in Toscana piuttosto, no? Che fare il pullman a San Siro, giocate a calcio pure voi, no? Ogni volta che vengono a San Siro queste squadre, ogni volta, ogni santa volta, queste squadre devono mettersi il pullman in area di rigore, e che palle, anche sta cosa Cioè una partita bruttissima, bruttissima, poi un continuo perdite di tempo, falli, e VAR di continuo, e calcio di rigore, non calcio di rigore, gol, è annullato, che partita, mamma mia, brutta, 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 davvero Che stagione, che agonia ragazzi, ogni partita del Milan è un'agonia quest'anno, in campionato, cioè, oddio mio, ogni avversario che affrontiamo c'è sempre qualcosa che non va, sempre, al 95% dei casi c'è sempre qualcosa che non va, sempre Beh, è incredibile, poi, cazzo, ma, ma, poteva toccarla di testa, Giroux, quel colpo di testa lì, cioè, ho perso la voce per colpa sua Cioè, la gola l'ho lasciata lì, davanti al televisore l'ho lasciata, che palle, santo Dio, che palle, una partita davvero Ho un nervoso addosso, ragazzi, che non potete capire, stasera Mamma mia, orribili, orribili, tutti quanti Cioè, in attacco, dico, in difesa, Lempoli non ha fatto niente, è logico che, ciao, Tomori, Teo, Hernandez e Calabria A livello difensivo non hanno dovuto far nulla, però a livello offensivo, cacchio, tutti i cross sballati E i tiri sempre che superano lo stadio e che tra un po' arrivano dalle mie parti fuori dalla città di Milano Mamma mia, le partite manco di serie C sono così, è incredibile Ogni volta che dobbiamo affrontare una squadra che si deve salvare O che giù per lì è lì vicino alla zona di retrocessione Ogni volta dobbiamo fare questi pareggi brutti e veramente dimenticabili Poi, davvero, cioè, a livello tecnico siamo messi male, ragazzi, eh Siamo messi male, se non riusciamo a fare un 1-2, non sappiamo fare un dribbling Possibile che in 24 giocatori che abbiamo in rosa soltanto le house a fare un dribbling Cioè, ragazzi, gli altri veramente imbarazzanti stasera, davvero Ma che cazzo è successo a Napoli? Non eravate questa squadra a Napoli? Cioè, cosa ci vuole riproporre lo stesso schema, gli stessi movimenti, le stesse cose? Cosa ci voleva? Cosa ci voleva stasera giocare allo stesso modo? Boh, non lo so, davvero Io... E perché c'è ancora la Champions e non so quanto duriamo in Champions League Ma, se no, sta stagione, davvero Ogni partita, ogni Santa Domenica o Venerdì Santo Quello che è, è un'agonia qua, ragazzi, eh Cioè, non lo so Supportatevi, supportate il canale Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate Forza Milan per i tifosi del Milan Gli altri andassero tutti a cagare che sicuramente ci hanno bufati Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi